ciao creatura io sono Hecate Splendent e benvenuta ben tornato nel legno di cosa è? ASMR piccolo 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 haul del mercato partiti prossimo ci tornano ancora sono andata lì per uno scopo e poi ho comprato tutt'altro ma questa è un'altra storia ti mostro la prima cosa che ho acquistato che non è per me, per mio papà ormai chi guarda i miei video sa che quando vado al mercato e trovo cose che possono essere utili non solo a me ma anche a altre persone che mi circondano e le acquisto visto che si avvicina alla stagione dell'estate in teoria anche se oggi piove c'è brutto tempo ma dettagli ho preso questo infradito 2 euro che durano tanto quanto quelle da 15 quindi tanto vale pagarle 2 euro quindi tanto vale pagarle 2 euro poi ho preso ho preso questa maglia maniche lunghe nera ho preso da mettere sotto ai maglioni così che vanno sempre comodo perché poi questa stagione anche non si capisce bene come vestirsi quindi magari metto delle maglie e maniche lunghe sopra una t-shirt quindi il disegno non si vedrà però anche se si vedrà chi se ne vede mi fa un po' ridere il disegno però ha pagato un euro è nuovissimo di questa marca banditas taglia unica c'è questo disegno mi fa troppo ridere però vabbè un euro non ci sta intanto poi io le maglie le copro con altre t-shirt adesso la maglia maniche lunghe sotto e sopra maniche corte di Jack e Sally per esempio ecco poi ho preso questo morbido 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 fular con sottofondo di campani c'è il fular sopra il microfono si sente lo stesso perché è abbastanza sottile ma non vedo niente non sto vedendo niente non vedo assolutamente niente ho appena fatto dei video per un altro social con gli occhiali l'ho vista e adesso non vedo niente vabbè comunque questo volare questo volare questo volare no sono uguali la fantasia è questa sui toni del nero sul marrone sul blu sul beige forse ok cos'è questo colore qui terra di siena bruciata non mi ricordo i nomi dei colori comunque mi piace perché ha le nappine 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 queste è così morbidose deformi un enorme su du Cioè, guarda, 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 c'è praticamente ci posso avvolgere tutto dentro e fare un vestito e l'ho pagato 1,50 euro e nella pacchiera e l'accanto costavano 8 euro. Ma perché? Infatti ce l'aveva fatto non stare il venditore che è fatto sempre dagli indiani e gli indiani ce l'avevano a 1,50 euro, quegli indiani lì e nell'altra manca l'8 euro, beh, non so come se è possibile. Dunque, erano tutti confezionati nella loro confezione di plastica, nuovi, con tanto di tagliandino che ho già tolto perché l'ho già usato. Perché quel giorno che sono andata al mercato c'era nuvoloso, poi si è alzato molto vento, quindi ho detto, vabbè, dai, me lo prendo e lo so subito. Un'altra volta è successo che ero al mercato e è stato a piovere e mi sono comprato un maglione, ero in maniche corte, e mi sono preso un maglione tipo a 2 euro. Come quelli che si comprano gli ombrelli, tipo, all'occorrenza, io invece mi prendo i maglioni e volar, perché tanto che se costano un euro si può anche fare. Comunque, è perfetto per questa stagione, perché c'è spesso vento e quindi ci sta, no? Se anche esco in t-shirt, per esempio, ho questo qui in borsa, magari, tanto ho la polsa capiente, come hai visto. E lo posso anche usare come coprispalle, tanto è grande. Come sempre, poi, nei commenti, oltre a lasciare like, ho un commento random e mi piacerebbe sapere quale di questi acquisti ti è piaciuto di più e quale avresti acquistato anche tu. Non abbiamo finito, c'è l'ultima cosa. Pronto? Ultima cosa, le espadriglias, che si pronuncia così, io vi ricordo che andavano tantissimo, tantissimo di moda. Quando ero bambina, non le ho più trovate poi. E ho pensato che fosse un buon compromesso tra non voler mettere i sandali e indossare anfibi tutti i giorni, per sempre. No, adesso sto portando, con le anfibi non sento i pedali, non riesco molto a guidare. Sto portando delle converse tutte nere, letteralmente tutte nere, perché hanno anche la parte davanti, quella che di solito è bianca. Intorno di gomma, tutta nera. Allora ho detto, beh, quest'estate invece di farmi sudare i piedi dentro le converse, mi metto queste. Che sono praticamente tra i sandali a un pelo di Sam, perché si è appiccicato al rossetto. Sono tra i sandali e buon compromesso tra la scarpa e il sandalo. Sono chiuse, però sono di tessuto leggero e sono un po' di corda sotto, però ecco, bisogna stare attento a non bagnarle, secondo me, perché sono al disastro. Ho detto, se le trovo del mio numero, ovvero il 41, e le trovo nere, le compro. E quindi è successo, è successo, ecco le qua. Sono originali, tipo uno secca, che secondo me, in negozio, costano molto più di quello che ho pagato io al mercato. Perché ho pagato ben 3 euro. Proprio originale, come puoi vedere qua, le spadriglias di Fonseca. C'erano anche gialle numero 41, e poi numero 40 c'erano anche zebrate e leopardate. Però, provatemi, mi stavano strette, cioè, battevo troppo nell'alluce, e quindi niente. Però appunto le nere le puoi abbinare con tutto, quindi ho detto, ma sì, dai, me le prendo. Me le prendo per quest'estate, che sono veramente, io non porto mai sandali, niente. Poi, anche per il prezzo, per la marca, insomma, è una bella soddisfazione trovarle a 3 euro, invece di 20, per esempio. Avevano molte, molte ciabatte, sandali, un sacco di... al mercato trovo sempre un sacco di ciabatte di Fonseca, anche pantofole in inverno. E le cose Carpisa, anche, che, vabbè, ha pochi euro, massimo 4 euro, non più di 4 euro. Sui cibi ho fatto qualche pezzettino di video del mercato, con... 4 euro, un pezzo, 4 euro, 3 pezzi, 10 euro, è azzurda, roba nuova, e forse che non va più di moda, che non è stata venduta, non lo so. Rimanezze di magazzino, non c'era scritto cosa usata, cose usate, è obbligatorio al mercato scriverlo, quindi se non lo scrivono vuol dire che non è roba usata. E... La prossima volta che vado, voglio provare a fare una specie di vlog con il telefono, perché ho visto che si vede bene, si sente bene, e la gente ti guarda meno. Cioè, facevo finta di stare al telefono, poi in realtà stavo filmando, è molto meno... Eccolo... Perché ci sono tante donne che fanno le videochiamate, così, quindi le persone che sono lì se ne fregano se fai il video con il telefono, invece se fai con la videocamera, un po' più... E quindi ho provato martedì scorso e martedì questo che andrò, proprio proverò a fare io una specie di vlog. Perché qualcuna, una creatura me l'aveva chiesto, e prima ho dovuto fare un sopraluogo, una prova, e adesso ho visto che è infattibile. E soprattutto il telefono mi regge e mi fa un bel po' di video in giro, ecco, sono andata sperimentando con il telefono per vedere se la batteria teniva, eccetera, eccetera. Perché adesso non sto usando più il mio telefono, ma ho, diciamo, ereditato un telefono di un'altra persona che se ne ho comprato uno nuovo, io ho ereditato il suo vecchio. Però ha il problema della batteria, insomma, se no non lo cambiava. Però sono andata comunque, questo è meglio di quello che avevo io. Sempre bisogna ereditare in meglio, non in peggio, ovviamente. Vabbè. Anche se è stato breve questo video, perché sicuramente, adesso non è breve, ma sicuramente dovrò fare molti tagli, perché è passato il treno, mi sono messi a urlare sotto la mia finestra, è partito un antivurdo, sopra poco, così, così simpatiche. Quindi, con tutti i tagli che dovrò fare, sarà veramente molto sicuramente corto, ma non importa. Spero che questo video ti sia piaciuto, ti abbia fatto comunque rilassare e fammi sapere quale cosa ti è piaciuto di più. Tu le porti, le spadriglie, penso non vadano più di moda da mille anni, ma non mi importa, perché tutte le cose che indosso non vanno di moda, quindi è tutto perfetto, così. Lasciami tanti like, commentini, anche random, io ti saluto, ti ringrazio per aver visto il mio video, grazie per supportarmi sempre, ti auguro come sempre, buonanotte, buon relax, ciao creatura.